per la visione del nostro ruolo in un'Italia che riprende a correre. Do la parola al Ministro dell'Interno, Onorevole Angelino Alfano. Grazie di cuore per essere con noi. Buonasera, sono davvero contento di essere qui con voi e di avere potuto assistere a questa ampia relazione di Piero Fassino. Peraltro ora ho capito perché è così magro, perché se fa un paio di interventi così al giorno, 70-80 minuti al giorno di questo genere valgono come la corsa mattutina. E sono anche contento che il Sindaco Fassino, il Presidente dell'Anci, mi abbia consentito di accantonare l'intervento che mirabilmente i miei uffici avevano preparato, nel senso che ha già detto tutte le cose buone che ci sono in fidanziaria e che toccava al Ministro dire, le ha già dette tutte lui, e quindi io posso riformare completamente quel che avevo intenzione di dire, cominciando dalla cosa che ritengo più importante e che secondo me è contestualizzare il momento in cui si svolge, caro Piero, caro Presidente Fassino, in cui si svolge questa Assemblea. Provo a farla breve, la premessa. Nell'ultimo quarto di secolo abbiamo assistito a un grande processo devolutivo, di devolution verso l'alto, e cioè verso l'Europa. Una serie di materie sono state devolute all'Europa, non sono più di competenza dello Stato centrale. Ogni città che è entrata nel nostro vocabolario, da Lisbona a Schengen, da Chioto, ad altro è stato devoluto a un nome di una città europea o anche del resto del mondo, un pezzo della competenza statuale. Cioè un pezzo della competenza statale è stato devoluto verso l'alto, verso l'Europa o addirittura a livello sovra-europeo. Contemporaneamente, un pezzo importante della competenza statale è stato devoluto verso il basso, verso le regioni, puntando sulle regioni come se le regioni fossero esattamente la soluzione di tutto il problema dell'efficienza della spesa e della efficienza dell'erogazione dei servizi. Tiriamo una riga orizzontale sotto questo quarto di secolo e poniamoci una domanda su cosa sia residuato dell'Ubicon System dello Stato unitario. Cioè se lo Stato unitario ha devoluto grande parte delle proprie competenze a livello europeo e a livello regionale ha devoluto il resto di competenze, cosa rimane di questo Stato? Io vi dico un mio personale bilancio, da persona delle istituzioni e anche da uomo politico, oltre che da cittadino. Io vi dico che l'Europa ha il meccanismo di funzionamento di una Europa dei fondatori, poi diventata 12, poi ampliatasi ulteriormente e che non sta reggendo con le proprie procedure il numero dei 28 di cui ne fanno parte. Le regioni, al tempo stesso, e lo dico perché se ne sta cominciando a discutere, non hanno retto, tutte almeno non hanno retto, questo processo devolutivo e adesso sono protagoniste di un neocentralismo regionale che appare ai cittadini con la stessa ostilità con cui a lungo i cittadini hanno valutato il centralismo statale. La mia morale della favola è che i sindaci dopo questo quarto di secolo e i comuni dopo questo quarto di secolo sono l'istituzione che si è meglio conservata a questo processo di riforme, cioè quelli che stanno meglio di tutti sono i comuni. E allora permettetemi di dirvi una cosa, ciascuno di voi è qui perché il popolo lo ha eletto e lo ha eletto con una lista civica o lo ha eletto con un partito, ma io mi rivolgo a voi non per la lista civica che rappresentate e neanche per il vostro partito, ma mi rivolgo a voi per la vostra fascia tricolore. In ciascuno di voi è impresso, nel cuore di ciascuno di voi è impressa quella fascia, è impresso quel tricolore d'Italia e mai come in questo momento noi dobbiamo essere consapevoli di giocare tutti per la stessa squadra. C'è una grande squadra chiamata Stato, c'è una grande squadra chiamata Italia, in quella squadra i sindaci e i comuni da loro amministrati giocano da protagonisti. Oggi più che vent'anni fa, questo protagonismo dei sindaci, questa loro legittimazione popolare mi ha fatto superare un qualche cosa che anche altri predecessori, e qui alla scrivania ce n'è uno, e cioè Enzo Bianco, mi avevano detto che era il rischio di chi andava a insediarsi al Viminale, cioè di sentirsi più il ministro della Polizia, con la forte incidenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Ed io invece, esattamente come ha fatto prima Di Menzo Bianco, ma lui era un sindaco e lo sapeva benissimo, ho ricordato molto chiaramente che il primo dipartimento del Viminale è quello che si occupa degli enti locali, il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali. Ed ecco perché io sono qui a dirvi alcune cose esattamente in quella funzione e con lo spirito del tricolore. La prima cosa è che quello che ciascun cittadino percepisce, quello che ciascun cittadino vede quando vede un sindaco e quando vede il Comune, è che ciascuno di voi è inevitabilmente la home page dello Stato. Voi siete la home page dello Stato. Quando il cittadino si rapporta all'ente pubblico, alla istituzione pubblica, e accende il proprio canale di comunicazione con l'ente pubblico, la prima cosa che vede è il Comune. Rispetto a quello che è il funzionamento dello Stato, gli amministratori locali, i sindaci sono la home page, sono il grande portale dei servizi dello Stato. Ecco perché il compito del Governo e il compito dello Stato è fare sì che questi servizi vengano resi nel modo più efficiente possibile. E di oggi comincio con le comunicazioni di servizio, nel senso che ho firmato prima di partire il differimento del termine per la presentazione del documento unico di programmazione al 28 febbraio e ho firmato conseguentemente il differimento del termine per il bilancio di previsione dell'anno 2016 al 31 marzo 2016. Questo l'ho fatto questa mattina su richiesta del Lanci e mi sembrava opportuno dirlo. L'altra cosa che mi sembra importante dire è che grazie all'anagrafe nazionale della popolazione residente noi dobbiamo fare sì che i nostri enti locali e i nostri comuni diventino coprotagonisti insieme allo Stato di questa misura di efficienza. Così come sul tema della carta di identità elettronica noi dobbiamo giocare insieme una partita di risparmio dei costi e al tempo stesso una partita di maggiore efficienza anche contro le frodi, contro i furti di identità elettronica e contro una serie di questioni che davvero oggi sono la nuova frontiera della sicurezza. Diceva il Presidente Fassino la questione che riguarda la gestione integrata dei servizi la questione dei piccoli comuni. Enzo Bianco e Roberto Pelle mi hanno chiesto una conferenza Stato-Città solo sui piccoli comuni io la riunirò e la presiederò ai primi di novembre con uno scopo raggiungere gli obiettivi della legge ma al tempo stesso affermare che quando si dice piccolo non si dice inutile che quando si dice piccolo non si dice da tagliare che quando si dice piccolo comune non si dice di un qualcosa di cui si può fare a meno perché se c'è un qualcosa di cui gli italiani hanno già detto chiaramente di non volere fare a meno è il campanile del proprio comune è il campanile della propria città è esattamente ciò che non intendono tagliare e se questa idea del campanile è l'idea che ci ispira è l'idea che ci orienta noi non dobbiamo confondere l'efficienza dei servizi con il taglio dei comuni ci sono alcuni esperimenti che hanno funzionato altri che non sono stati neanche provati altri esperimenti che probabilmente non saranno provati mai ma di certo è che oggi sui piccoli comuni si gioca una grande sfida che dobbiamo vincere insieme con intelligenza cioè la sfida del miglioramento della qualità dei servizi non trasformando il miglioramento della qualità dei servizi nella chiusura dei piccoli comuni io credo che oggi di fronte a due questioni le ha affrontate ed io non le voglio trattare tutte quelle che ha affrontato Piero Fassino ma intendo trattarne due su due questioni noi dobbiamo fare squadra più ancora che su altre la sicurezza e l'immigrazione abbiamo un elemento nel nostro vivere in comune la sfida della sicurezza tra il governo nazionale e tra il Viminale e i comuni che ci rende molto simili nel giudizio della gente noi abbiamo una asimmetria fortissima tra la realtà e la percezione abbiamo un numero dei reati che calano abbiamo percentuali dei reati che calano nel 2014 rispetto al 2013 i reati sono calati del 7% nel 2015 nel primo semestre sono calati rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente di un altro 9-10% stiamo consolidando tutti i dati eppure se parliamo con i nostri concittadini abbiamo la sensazione che non venga colto che il numero dei reati anche dei furti, delle rapine dei furti in abitazione sia diminuito ecco perché con l'Anci abbiamo deciso di fare insieme una legge sulla sicurezza urbana non con l'idea che sia lo Stato a dovere imporre una legge sulla sicurezza urbana ai comuni ma con una visione completamente capovolta che io vi rappresento così l'origine della pretesa statuale cioè se voi andate all'origine e origine dello Stato su che cosa si fonda lo Stato? sulla pretesa punitiva cioè la capacità di erogare la sanzione di garantire la sicurezza e la capacità di esazione fiscale cioè la capacità di imporre il tributo oggi con la scelta che abbiamo fatto insieme con i comuni, con l'Anci cosa stiamo dicendo? che lo Stato che pure fonda ontologicamente la propria nascita sulla idea che è in grado di garantire la sicurezza dei propri cittadini attraverso la spada e attraverso la bilancia quello Stato dice io non la gestisco da solo la sicurezza delle nostre città e la sicurezza delle nostre comunità la gestisco insieme ai sindaci ecco perché noi andremo a fare questa legge sulla sicurezza urbana che si occuperà del decoro urbano rinnovando le sanzioni e anche le misure riguardanti i writers che sporcano i muri delle nostre città intervenendo anche su alcune norme che riguardano l'accattonaggio molesto l'accattonaggio invasivo che tante volte preoccupa i nostri concittadini e intervenendo soprattutto per quanto riguarda le grandi città sul tema che ha investito spesso le nostre comunità e che è il tema dell'ordine pubblico e dei cortei su questi argomenti noi pensiamo di fare veramente un ottimo lavoro che è il lavoro che si può fare quando si collabora e a proposito di collaborazioni diceva il Presidente dell'Anci della questione che riguarda la sicurezza dei sindaci noi siamo consapevoli di quante volte i sindaci siano sottoposti a un rischio personale e siamo anche consapevoli di una cosa che spesso il rischio che i sindaci corrono non deriva da un'avventura amministrativa no, deriva dalla legittima preoccupazione di fare rispettare una legge di fare applicare un regolamento di garantire la legalità nella propria comunità e proprio il rispetto della legge gli procura la intimidazione e la minaccia quel rispetto della legge che noi dobbiamo assicurare ed è per questo che abbiamo fatto un osservatorio al Viminale sulle intimidazioni nei confronti sulle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali si tratta di una sfida molto complessa anche questa e noi intendiamo vincerla ovviamente con la collaborazione di tutti coloro i quali ci vorranno dare una mano d'aiuto perché l'idea che si possa vincere da soli senza la collaborazione di chi ha subito l'intimidazione è un'idea che non è rispondente alla realtà e che non potrebbe portarci da nessuna parte e poi c'è l'altra questione la questione che riguarda la immigrazione la immigrazione che si collega ad un altro aspetto che vorrei dirvi in riferimento alle intimidazioni per concludere il capitolo sulle intimidazioni e che è il tema del Sud le intimidazioni così come il tema di primo approccio delle immigrazioni riguardano il Sud e noi siamo consapevoli che tanti amministratori del Sud sono stati io sono stato in Sardegna ma in Sicilia mi capita quasi quotidianamente sono stati intimiditi allora io vi dico una cosa da uomo del Sud che è l'unico ministro da Roma in giù di questo governo e che è nato esattamente dove l'Europa finisce e cominciano le acque territoriali internazionali io vi dico che tante volte ho sentito parlare di piani per il Sud tante volte ho sentito parlare della programmazione per il Sud ma io sono profondamente convinto che non esista un piano per il Sud che non parta dalla legalità e dalla sicurezza dei nostri territori perché non c'è nessun incentivo non c'è nessun master plan non c'è nessuna erogazione in denaro che può compensare ad un imprenditore il rischio e la mancanza di serenità di ricevere una bomba nel cantiere o di ricevere una intimidazione che può togliere sicurezza all'impresa e ai propri dipendenti non c'è altro primo pilastro del piano per il Sud che non sia la legalità e la sicurezza dei territori è sempre sul Sud io ringrazio molto per averne parlato il Presidente dell'Anci c'è il tema della immigrazione vedete parlo pochi minuti di questo e poi concludo io sono nato lo dicevo poco fa esattamente dove finisce l'Europa e sono convinto che ciascuno di noi nella propria vita istituzionale e a voi sarà capitato nella vostra vita da sindaci o anche nella vostra vita pre-esperienza amministrativa che vi accada o vi sia accaduto un qualcosa che ha rotto dentro di voi un meccanismo ha rotto dentro di voi un qualche cosa e ha imposto a voi di ricostruirla con un ordine nuovo a me è successa questa cosa due anni fa mi è successa la mattina del 4 ottobre a Lampedusa per me Lampedusa è l'isola delle vacanze è l'isola della mia gioventù è l'isola delle mie prime gite in Vespone andai lì da Ministro dell'Interno e vidi in un freddo hangar dell'aeroporto di Lampedusa 300 sacchi sì 300 sacchi con dentro 300 corpi e dentro ogni sacco c'era un corpo per la verità no in uno di questi sacchi ce n'erano due perché c'era una mamma abbracciata al proprio bambino li vidi lì tutti in fila tutti quelli lì da quel momento capì che Lampedusa per me non era più l'isola delle mie vacanze l'isola della mia adolescenza e che il mio rapporto con questa questione dell'immigrazione da quel momento sarebbe cambiato per sempre e decisi con me stesso non con altri che avrei fatto di tutto da meridionale che aveva conosciuto l'immigrazione perché tanti immigrati conosco e migranti che tornano indietro durante l'estate nei nostri comuni ma soprattutto da uomo di quelle parti lì avrei fatto di tutto per evitare che quella tragedia potesse ripetersi io oggi sono di fronte alla platea istituzionale secondo me più importante d'Italia la più autorevole la più rappresentativa del popolo italiano che è l'assemblea degli amministratori locali e dei comuni italiani ecco perché a questa assemblea sto facendo queste considerazioni che non vogliono per nulla essere intimiste ma vogliono essere molto istituzionali andai a Roma tornai parlai con il presidente del consiglio con il ministro degli esteri con il ministro della difesa partì l'operazione Mare Nostrum abbiamo salvato oltre centomila vite umane e abbiamo chiesto all'Europa in quel momento di non essere lasciati soli perché quello non è un tema che riguarda la frontiera italiana nessuno di quelli voleva entrare in Italia volevano tutti entrare in Italia per andare in Europa da quel giorno sono passati due anni e dieci giorni e quindici giorni anzi e venti giorni sono passati due anni e venti giorni tante cose sono cambiate io personalmente da ministro dell'interno sono stato molto attaccato e sono stato molto accusato per il fatto che si confondesse un fenomeno globale un fenomeno epocale con un fenomeno italiano con un fenomeno siciliano con un fenomeno meridionale no era un fenomeno epocale ed io ho tenuto duro ho tenuto duro perché credevo profondamente in quel che stavo facendo e perché ho sempre pensato che a un ministro dell'interno di buona coscienza si potesse chiedere di andare in Europa e battersi per superare il regolamento di Dublino che pone tutti gli obblighi sullo stato di primo ingresso che a un ministro dell'interno si potesse chiedere di andare in Europa e battersi per ottenere la redistribuzione dei migranti che si potesse andare un ministro dell'interno che potesse andare in Europa e battersi come abbiamo fatto per dire che quella era la frontiera europea e che lì ci volevano le navi europee ma che almeno a me non si potesse chiedere di non porgere la mano a una donna a un bambino a un uomo che stava annegando in mare perché questi sono i valori di un grande paese come l'Italia di un grande continente come l'Europa i valori della vita che ti portano a dire se tu stai annegando se tu stai annegando io ti salvo ti salvo la vita quando sei salvo ti chiedo se sei un richiedente asilo oppure se sei un illegale se sei un immigrato irregolare tiri in patrio se sei un richiedente asilo prova a mandarti in un paese d'Europa o in Italia ma prima ti salvo e poi ti faccio la domandina non te la posso fare quando sei morto questa è la premessa per dirvi che sono cambiate tante cose la prima cosa che è cambiata è che abbiamo chiuso Mare Nostrum perché sono arrivate le navi europee la seconda cosa che è cambiata è che l'Europa ha capito che quella frontiera lì è da difendere per tutti e non solo per noi la terza cosa che è cambiata è che con il piano di ricollocamento abbiamo bucato completamente il regolamento di Dublino non funziona più quel regolamento è vecchio chi entra in Europa è un profugo europeo e non italiano c'è un diritto d'asilo europeo ci deve essere un diritto d'asilo europeo perché c'è un diritto di cittadinanza europeo c'è un diritto di circolazione europea ci deve essere un diritto di asilo europeo queste cose sono le cose che sono cambiate e sono cambiate perché due anni fa lo dico senza supponenza ma parlo a nome di un grande paese due anni fa noi salvando quelle vite abbiamo messo l'Italia dalla parte giusta della storia abbiamo messo non qualcuno di noi l'Italia dalla parte giusta della storia e quando abbiamo fatto quel che abbiamo fatto noi eravamo stati facili profeti dicevamo molto semplicemente ai colleghi d'Europa ma signori ministri dell'interno europei ma secondo voi con la fame con la disperazione che c'è lì in Africa con le guerre che ci sono in Siria con la instabilità della Libia che fa partire da lì oltre il 90% degli sbarcati che partono dalla Libia secondo voi la porta di Lampedusa è sufficiente a reggere tutto l'afflusso di questi migranti di popoli interi che si spostano non è possibile saranno aperte anzi sfondate altre porte e così è stato ecco perché rispetto alle nostre buone ragioni vi confido da italiano un retrogusto amaro perché tutti questi successi che abbiamo ottenuti ho sempre il dubbio che siano stati poi alimentati da 70 morti dentro un camion in Austria o da un bambino restituito alla spiaggia e raccolto da un uomo in divisa che ha fatto il giro del mondo la foto del bambino che ha fatto il giro del mondo sì questo retrogusto amaro è rimasto è rimasto questo retrogusto amaro ma ci sono i successi che abbiamo ottenuto e quel successo oggi lo dobbiamo tradurre in azione di buon governo a livello italiano ecco perché io sono qui per dirvi noi siamo un grande paese e noi abbiamo una grande caratteristica che è quella di avere 8.000 comuni 8.000 campanili oggi nel nostro sistema di accoglienza oggi nel nostro sistema di accoglienza ci sono meno di 100.000 rifugiati siamo 60 milioni e 8.000 comuni se ciascuno farà darà una piccola mano d'aiuto noi potremmo dire da sindaci da uomini di governo da italiani veri che abbiamo retto senza un disastro sociale senza un impatto negativo senza un grande peso su alcune comunità a danno di altri ecco perché abbiamo voluto puntare sullo Sprar perché io prima ancora delle regole cambiate ho detto ai miei prefetti che sono stati molto leali e collaborativi ho detto prima di fare qualsiasi cosa chiedete al sindaco è il sindaco il nostro interlocutore è con lui che dovete parlare perché è lui che è in grado di valutare l'impatto sociale e io apro e chiudo una parentesi sapete che si parla del taglio delle prefetture e tutto quanto ho ricevuto i sindaci delle città alla spicciolata candidate a perdere la prefettura caro Piero e tutti mi hanno detto salva i prefetti e salva le prefetture per me questa è stata una grande attestazione di spirito di squadra e una grande attestazione a sostegno del sistema delle prefetture e detto questo perché io ho puntato e punto e noi puntiamo sullo Sprar puntiamo sullo Sprar perché la modalità di accoglienza diffusa è della ragione per la quale nel bando nuovo di 10.000 posti il peso sui comuni passa dal 20% al 5% alla contribuzione nei confronti dell'ente locale ed è la ragione per la quale sto puntando molto sul tema dell'accelerazione delle procedure il 70% in più delle domande quest'anno rispetto all'anno scorso perché? Perché abbiamo raddoppiato il numero delle commissioni perché? Perché invece di fare l'esame di maturità perché prima per fare il richiedente asilo la scena era di un tavolo così con un migrante che doveva subire l'esame di tante persone ora è un one to one queste sono le misure di efficienza al tempo stesso c'è un'altra straordinaria opportunità per i sindaci e per la gestione serena di questa vicenda ossia la possibilità che nasce da una circolare nostra dello scorso novembre che io voglio rinnovare e rafforzare con la vostra collaborazione che è quella del lavoro volontario e gratuito dei migranti nelle comunità in modo tale da togliere ai migranti il senso della frustrazione di essere lì e di non fare niente e ai sindaci dare una chance in più per dire ai propri concittadini ai propri amministrati questi qui li facciamo lavorare ovviamente gratuitamente e volontariamente perché dal mio punto di vista prima vengono gli italiani e i posti di lavoro nuovi che dovessero crearsi per quanto mi riguarda non ci può essere un migrante che ruba il posto di lavoro o prende il posto di lavoro di un italiano questa è la mia idea che si abbina a un'altra idea se tutto questo sistema deve funzionare lo abbiamo detto in Europa se tutto questo sistema deve funzionare deve funzionare perché funzionano i rimpatri se sei un migrante che scappa da una guerra e da una persecuzione ti accolgo se scappi dalla tua voglia di non vivere più lì o dalla tua difficoltà noi siamo un paese e un continente accogliente ma non possiamo accogliere tutti dobbiamo rimpatriarti ma i rimpatri devono essere una procedura europea questa è la nostra strategia e questa è la linea europea sulla quale noi ci batteremo vado a concludere io sono qui da ministro dell'interno per proporre un patto ai sindaci d'Italia il presidente Fassino il presidente Bianco lo sanno bene ne abbiamo parlato ma ne abbiamo parlato anche con il sindaco di Lecce che è qui noi dobbiamo fare un gioco di squadra nel nostro paese dobbiamo fare un grande patto per il nostro territorio noi dobbiamo fare un patto un grande patto per il territorio che sia fondato sulla efficienza dei servizi ai cittadini su legalità sicurezza sicurezza urbana specificamente immigrazione lavoro anti infiltrazioni nelle amministrazioni locali questo è il grande patto per il territorio che io vengo qui a proporvi e ve lo vengo a proporre esattamente nel momento in cui voi svolgete un'assemblea con questo titolo bellissimo un titolo bellissimo per il quale io mi complimento perché quando si dice l'Italia che crede che ama che lotta l'Italia che vince si fa riferimento a un qualcosa di esistenziale cioè si fa riferimento a un grande paese che crede nel successo perché non c'è un successo che non derivi dalla fede dalla fede nel successo derivi dall'amore per la cosa per cui ti batti ecco quel qualcosa per noi è l'Italia è un'Italia che sta ricominciando a crescere io ho sempre pensato che la fiducia di cui oggi parla l'Istat la fiducia gli indici di fiducia sul futuro sono tornati ai livelli pre-crisi la fiducia non è una roba esoterica la fiducia è una leva di politica economica è il motore del ritorno ai consumi è il motore del ritorno agli investimenti ecco non esiste fiducia se non c'è fiducia anche tra gli amministratori locali tra i sindaci che rappresentano quella home page dello Stato quella home page di un grande paese come l'Italia per tornare a crescere per tornare a sperare c'è bisogno di fiducia la fiducia è tornata noi siamo convinti che con il nostro grande patto per il territorio questa fiducia la moltiplicheremo la moltiplicheremo per 8 mila la moltiplicheremo per 60 milioni vi ringrazio grazie di cuore al ministro Angelino Alfano anche per essere entrato nel merito di alcune delle questioni che il presidente Fassino aveva sottoposto alla nostra attenzione grazie a tutti